Seconda appendice del mio costo della chimica facile. In questa appendice parleremo di concentrazione e faremo più che altro tanti esercizi sui diversi modi per calcolare la concentrazione. Quindi intanto cominceremo ricordandoci che cos'è la soluzione, quindi definizione di soluto e solvente. Poi vedremo in quanti modi diversi si può calcolare la concentrazione di una soluzione e poi cominceremo a vedere le varie tipologie di concentrazione, come la precentuale in massa, precentuale in volume, massa su volume, parti per milione, ppm, molarità, molarità e infine frazione molare. Cominciamo. Cominciamo a vedere che cos'è una soluzione. Le sostanze in natura si presentano spesso sotto forma di miscugli e questi possono essere in modalità eterogenea e omogenea in base al rapporto dei loro componenti. Però ricordiamoci sempre che c'è una componente minore del 50% e poi una componente maggiore del 50%. La componente minore si chiama il soluto, la componente maggiore si chiama il solvente. Vedremo in questa soluzione che è possibile che le componenti minore del 50% siano più di una e quindi ci siano più soluti sciolti in un solvente. Anche in quel caso c'è un modo per calcolare le loro concentrazioni reciproche. La soluzione è la somma di soluto più solvente. Quindi una soluzione è un miscuglio omogeneo di due o più sostanze solide, liquide o gassose con una componente maggiore degli altri. Qui vediamo alcuni esempi perché queste possono essere monofasiche o multifasiche ovvero posso avere soluzioni gassose monofasiche dove sia il solvente che il soluto sono entrambi dei gas oppure dove il solvente è gas e il soluto è liquido. Un esempio è l'aria umida, quella con l'umidità. Quindi l'umidità, per esempio una nebbia o una nuvola, sarebbe il vapore acqueo disciolto nell'aria. Qui vediamo ancora un esempio di soluzione gassosa monofasica, l'aria. L'aria ha il 21% ossigeno e il 78% azoto, quindi è una soluzione gassosa. Poi abbiamo le soluzioni liquide che possono essere multifasiche dove abbiamo sia un gas che un liquido che un solido sciolto all'interno oppure quelle monofasiche dove sia soluto che solvente sono liquidi. Un esempio della soluzione polifasica gas liquido sono le bevande gassate quindi quelle bevande che hanno l'anidicarbonica pompata all'interno che crea l'effervescenza. Il vino è una soluzione liquida con liquido dove il soluto e l'etanolo il solvente la comprende in un'alcolica, ad esempio la parte acquosa. Poi abbiamo il solido con liquido, ad esempio l'acqua col sale. Nell'acqua di mare abbiamo che il solvente è l'acqua che è liquida, il soluto è il sale che è un solido. E poi abbiamo le soluzioni di solido-solido come le leghe metalliche o anche le rocce. Quindi ricordiamoci che il solvente è la componente maggiore del 50%, il soluto è la componente minore del 50%. Tutte le soluzioni hanno queste caratteristiche, a prescindere dalle fasi in cui si trovano. Vediamo i vari modi per poter calcolare la concentrazione. Quindi abbiamo ad esempio la concentrazione percentuale in massa, ovvero quanto soluto espresso in grammi in 100 grammi di soluzione. Quindi si calcola facendo massa-soluto fratto massa-soluzione per 100. Poi abbiamo la concentrazione percentuale in volume, che sarebbe quanto soluto in millilitri, quindi il volume del soluto, contenuto in 100 millilitri di soluzione. Quindi volume del soluto espresso in millilitri fratto volume soluzione espresso in millilitri anch'esso. È ovvio che essendo entrambi dei valori adimensionali, in questo caso io ho messo millilitri e millilitri, ma se entrambi i valori sono espressi, nel primo caso chilogrammi fratto chilogrammi, o litri fratto litri, alla fin fine le unità di misura si semplificano e abbiamo sempre la percentuale adimensionale del rapporto tra i due valori. Poi abbiamo la concentrazione massa fratto volume, in cui indica il rapporto tra la massa del soluto e il volume della soluzione, quindi abbiamo massa-soluto che può essere espressa in grammi, milligrammi o microgrammi, fratto il volume della soluzione, espresso a sua volta in centermedicubi, metri cubi o millilitri o litri. Quindi l'importante è che le unità di misura siano abbastanza comparabili. Ad esempio i grammi con i centermedicubi, i chilogrammi con i litri e così via. Andiamo avanti e parliamo delle parti per milione, ovvero indica il rapporto di soluto presente in un milione di parti di soluzione. È un parametro adimensionale. È lo stesso concetto della percentuale, solo che espressi in percentuale, espressi in per milione, perché a volte le concentrazioni sono talmente piccole che per poter apprezzare effettivamente quanto sono, non conviene utilizzarlo in parti di cento, ma in parti per milione. Ancora vediamo la molarità, moli di soluto fratto un litro di soluzione, e questa è la formula. Poi ancora la molarità, che molti confondono con la molarità, ma sono due cose diverse, in cui corrisponde a moli di soluto espresso in massa di solvente. Quando utilizziamo come solvente l'acqua, questi due parametri acquisiscono lo stesso valore, e questo contribuisce al fatto che molta gente li confonda. Ma in realtà se utilizziamo solventi con densità diverse dall'acqua, questi due valori differiscono. Quindi ricordatevi che molarità e molalità sono due cose diverse. E poi la frazione molare. Come detto prima, può capitare che in una soluzione ci sia più di un soluto, quindi più di una componente minore del 50%, e grazie alla frazione molare possiamo calcolare il contributo di ciascun componente del soluto nella soluzione, e quindi corrisponde a moli del soluto fratto moli totali. Cominciamo con la prima, concentrazione percentuale in massa. La concentrazione consiste nel calcolare il rapporto tra la massa in grammi, del soluto e quella della soluzione, in centesimi. Quindi percentuale in peso, massa su massa, facciamo massa-soluto espressa in grammi fratto massa-soluzione espressa in grammi per 100. Questa è la formula da imparare. Ad esempio, nell'acqua di mare sappiamo che per ogni 1000 grammi di acqua di mare ci sono 965,9 grammi di acqua e 34,482 grammi di sale. Questo è il rapporto tra soluto, che è il sale, e solvente, che è l'acqua. Abbiamo che esiste una buona percentuale di cloro, la maggior parte, e poi ci sono altri composti come il sodio, insieme fanno il cloruro di sodio, il sale della cucina, e poi solfati, SO4- e altre sostanze chimiche. È possibile calcolare la percentuale in peso di questo soluto applicando questa formula e facendo la frazione tra la massa dei soluti, quindi 34,482 grammi, fratto un chilo di soluzione o anche 1000 grammi, perché la soluzione, vi ricordo, è sale più acqua, ovviamente per 100. Come vedete, mi viene una percentuale adimensionale. Se avessimo utilizzato queste unità di misura entrambi in grammi, quindi avremmo trasformato in grammi sia sopra che sotto, spostando di tre volte la virgola verso sinistra, avremmo ottenuto lo stesso valore, perché le unità di misura si semplificano sia sopra che sotto. Quindi per convenzione si utilizzano i grammi, però poi il risultato non cambia se si utilizzano anche le unità di misura, perché le due unità di misura si semplificano creando un valore finale adimensionale. Facciamo questo esempio. Calcolare la concentrazione percentuale in massa, con questa simbologia, di una soluzione ottenuta sciogliendo 20 grammi DNA2SO4 in 250 grammi di acqua. Questi sono i nostri dati. Massa del soluto, massa solvente e l'incognita è la concentrazione percentuale in peso. Dobbiamo trovare la massa della soluzione, quindi soluto più solvente equivale a 20 più 250 grammi, corrispondono a 270 grammi, quindi la massa di questa soluzione corrisponde a 270 grammi. Possiamo ora applicare questa formula, quindi 20 grammi fratto 270 per 100. Abbiamo un valore adimensionale perché i grammi si semplificano, quindi mi viene una concentrazione percentuale di 7,4. Facciamo quest'altro esercizio. Calcolare la quantità di KHCO3 contenuto in 800 grammi di una soluzione al 30% in concentrazione massa. Quindi vediamo qui i nostri dati sintetizzati in questa tabella e abbiamo la concentrazione, abbiamo la massa della soluzione, ci manca il soluto, quindi dobbiamo fare la formula inversa. Conoscendo la concentrazione, possiamo fare uno stato a gemma per poter calcolarci la percentuale. Ad esempio, una percentuale del 30% vuol dire che se avessi 100 grammi di soluzione, il soluto sarebbe di 30 grammi, perché il 30% di 100 grammi è 30 grammi. Allora posso fare questa proporzione. 30 grammi sta a 100 grammi, come x grammi, che è la mia incognita, sta a 800 grammi. Essendo una proporzione con la x interna, devo fare gli esterni fratto gli interni. Quindi la x equivale a 30 per 800 fratto 100. Qui scriviamo 30 grammi fratto 100 grammi, è il rapporto che facciamo perché stiamo parlando di una percentuale del 30%, quindi su 100 grammi il 30% è 30 grammi, per 800 grammi. Mi viene una x, ovvero un'incognita, di 240 grammi. Quindi il 30% di 800 grammi corrisponde a 240 grammi. Ho utilizzato questa proporzione per risolverlo, però di fatto ho fatto la formula inversa della definizione di questa concentrazione. Poi, ancora, facciamo questo esercizio. Una soluzione si ottiene sciogliendo 3 moli di HNO3, in 900 grammi di acqua. Dobbiamo calcolare la concentrazione percentuale in peso. Quindi abbiamo sia il soluto che il solvente, ma stavolta il soluto lo abbiamo in moli. Questi sono i nostri dati. Dobbiamo convertire queste 3 moli in grammi. Quindi dobbiamo calcolare la massa molare di HNO3. Utilizziamo la tavola periodica per trovarci il peso molecolare dei singoli elementi che lo compongono. Idrogeno, ossigeno e azoto. L'idrogeno pesa 1, l'ossigeno pesa 16 unità atomiche, l'azoto pesa 14 unità atomiche. E calcoliamo la massa molare, ovvero l'idrogeno è uno solo, pesa 1 e quindi ne sommo solamente 1, più N che è 14, ne abbiamo solamente 1 nella formula, quindi solamente 1,14, e poi 3 volte l'ossigeno, perché nella formula abbiamo 3 ossigeni, quindi 16 per 3. La somma totale mi viene 63,02 grammi per moli, quindi una mole di questa sostanza pesa 62 grammi. Però noi non abbiamo una mole, abbiamo 3 moli. Quindi dobbiamo vedere a quanti grammi corrispondono 3 mole. Allora, se una mole pesa 63 grammi, 3 moli peserà 63 per 3, perché una mole pesa 63 grammi e 3 moli ovviamente ne peserà il triplo. E mi viene che nella soluzione ho 189,06 grammi di HNO3. Ora, io ho la massa del soluto e la massa del solvente. Vi ricordo che a noi ci serve la massa della soluzione. Infatti sappiamo che la soluzione equivale all'assoluto più solvente, quindi basta fare 189,06 più 900, mi viene che la soluzione pesa 1089,06. Ora abbiamo tutti quanti i dati e possiamo applicare la formula vista prima. Massa soluto fratto massa soluzione per 100. Quindi mi viene, percentuale in peso, 189,06 grammi, la massa del soluto per 100 fratto 1089,06 grammi. Ovviamente i grammi si semplificano e abbiamo un valore adimensionale in percentuale di 17,36%, ovvero in questa soluzione il soluto è un rapporto del 17,36% con la soluzione. Ora vediamo invece la percentuale in volume, ovvero il rapporto che c'è tra il volume del soluto fratto il volume della soluzione per 100. E sono espressi in millilitri. Anche qui come vedremo, se le misure si semplificheranno e otterremo un valore adimensionale. Questa è la formula della concentrazione percentuale in volume. Facciamo qualche esercizio. Cominciamo da questo. Quanto volume di glicolelitico deve essere usato per preparare mille millilitri di una soluzione al 35% di percentuale in volume di glicoliche etilico. Quindi ecco i nostri dati. Percentuale in volume 35%, volume soluzione 1000 millilitri e la nostra incognita è il volume del soluto. La percentuale ci dice che per ogni 100 millilitri di soluzione ho sciotto 35 millilitri di soluto. Quindi posso applicare questo rapporto per fare questa proporzione. 100 millilitri stanno a 35 millilitri come 1000 millilitri sta a x. Stavolta la x esterna e quindi si risolve facendo il prodotto degli interni fratto l'esterno. E mi viene x equivale a 35 millilitri fratto 100 millilitri per 1000. Semplifichiamo quello che c'è da semplificare e otteniamo il volume del soluto, ovvero di glicole etilico, che è di 350 millilitri. Ora vediamo la concentrazione massa su volume. Questo indica il rapporto tra la massa del soluto e il volume della soluzione. Quindi massa soluto, espressa in grammi, fratto il volume della soluzione, espressa in centimetri cubi. Ovviamente è sempre una percentuale e quindi va moltiplicata per 100. Questa è la formula. Quello che possiamo ancora dire è che può essere utilizzata una diversa unità di misura. Per esempio possiamo utilizzare i millilitri o i metri cubi o altro ancora. Quindi vediamo che questa può variare. Facciamo questa esercitazione. Una soluzione al 7% rapporto massa-volume occupa un volume di 2,5 litri. Dobbiamo calcolare la massa del soluto. Quindi qui abbiamo i dati in cui c'è la percentuale rapporto massa-volume del 7%, il volume della soluzione 2,5 litri e poi la nostra incognita che è la massa del soluto. Dobbiamo quindi calcolare la massa del soluto. Sapendo che il 7% corrisponde a 7 grammi nel caso la soluzione fosse di 100 millilitri, dobbiamo risolvere questa proporzione. 7 grammi stanno a 100 millilitri come x grammi stanno a 2500 millilitri. Ho convertito i 2,5 litri in 2500 millilitri perché se nella stessa proporzione sto utilizzando una unità di misura, ad esempio in millilitri di questi 100, anche dall'altra parte devo utilizzare la stessa unità di misura. Non posso moltiplicare e dividere millilitri con litri. Devono essere o tutti i litri o tutti i millilitri. Quindi andiamo a risolvere questa proporzione. Se la x interna si risolve facendo il prodotto degli esterni fratto l'interno, mi viene praticamente questa soluzione. Quindi abbiamo 7 grammi per 2500 fratto 100 millilitri. Quindi semplifichiamo i millilitri con i millilitri. Per questo ho convertito i 2,5 litri millilitri in modo da poter semplificare le unità di misura. Io ottengo questo valore, ovvero la massa del soluto di una soluzione del 7% di 2500 millilitri di soluzione è di 175 grammi. Facciamo adesso un altro esercizio. Stavolta abbiamo questi dati. Abbiamo una soluzione formata da 15 grammi di soluto in 800 grammi di solvente che ha una densità di 1,1 grammi su millilitri. Quindi dobbiamo calcolare la concentrazione percentuale massa in volume. I nostri dati sono la massa del soluto, la massa del solvente, la sua densità, quindi quella del solvente, e poi la nostra incognita è la concentrazione. Quindi dobbiamo prima calcolare la massa della soluzione. Vi ricordo che la soluzione è soluto più solvente. Quindi sappiamo che la soluzione ha una massa di 815 grammi. Ora, dobbiamo adesso calcolare il volume della soluzione. Sappiamo la sua massa, sappiamo la sua densità, applichiamo la formula della densità. Densità è massa su volume, la nostra incognita è il volume. Facciamo la formula inversa e il volume equivale a massa su densità. Quindi andiamo ad applicare questa formula con i dati che conosciamo. La massa della soluzione, 815 grammi, fratto la sua densità, 1,1 grammi su millilitri, mi dà un volume di 741 millilitri. Quindi questa soluzione ha un volume di 741 millilitri. Adesso possiamo utilizzare questo dato per calcolarci la concentrazione. Infatti sappiamo che 15 grammi stanno a 741 millilitri, come x grammi stanno a 100 millilitri. Praticamente risolvendo questa proporzione ci viene la formula della concentrazione percentuale massa-volume. Infatti se la x interna faccio il prodotto degli esterni fratto gli interni e mi esce fuori la massa del soluto fratto il volume della soluzione per 100. Quindi semplicemente applicando questa proporzione esce fuori la formula per trovare la percentuale massa su volume. Semplifichiamo le unità di misura e alla fine otterrò un valore adimensionale, ovvero la percentuale massa su volume è di 2,025% massa su volume. Il risultato finale infatti è un valore adimensionale. Ora vediamo parti per milione ppm. Ha lo stesso ragionamento della percentuale solamente che viene fatto in milionesimi. Indica le parti di soluto presenti in un milione di parti di soluzione. Anche questo valore è adimensionale. Quindi parti per milione ppm equivale a massa o volume del soluto fratto massa o volume della soluzione. Tutto quanto moltiplicato per 10 alla sesta, ovvero per un milione. Questa è la formula da imparare. Questa unità di misura viene utilizzata ad esempio per calcolarci la concentrazione della CO2 in atmosfera che negli ultimi anni sta salendo moltissimo a causa dell'utilizzo dei combustibili fossili. Questo, nonostante sia una percentuale molto piccola perché stiamo parlando di parti per milione, ha comunque sia un ruolo importante nella regolazione termica del pianeta. Tant'è vero che l'aumento della sua concentrazione negli anni vedete come è salito nella seconda metà del XX secolo sta aumentando le temperature del pianeta ovvero il pianeta si sta scaldando perché l'aumento della concentrazione di questo gas in atmosfera sta trattenendo il calore del sole. Stiamo aumentando l'effetto serra modificando la composizione chimica dell'aria. Facciamoci sopra un esercizio. Un campione di acqua di mare contiene 1 per 10 alla meno 4 ppm di cobalto. Assumendo che la densità dell'acqua di mare sia pari a un grammo per millilitro dobbiamo calcolare il volume di acqua di mare che contiene 1.5 grammi di cobalto. Qui abbiamo i dati e qui le incognite. Possiamo scrivere che 1 per 10 alla meno 4 grammi di cobalto si trovano in un milione di grammi di soluzione. E quindi posso scrivere questa proporzione. Un grammo di cobalto sta a x grammi di soluzione come 1 per 10 alla meno 4 grammi di cobalto stanno a 1 milione di grammi di soluzione. Visto che la x è interna devo fare il prodotto degli esterni fratto l'interno e mi viene 1 grammo per 1 milione di grammi fratto 1 per 10 alla meno 4 grammi. Ottengo praticamente 1 per 10 alla 10 grammi. Quindi, semplificando quello che devo semplificare nella equazione principale, otterrò che in 1 per 10 alla 10 grammi di acqua di mare avrò un grammo di cobalto. Questi sono grammi di acqua di mare. Posso adesso calcolarmi il volume conoscendo la densità dell'acqua di mare. Quindi so che il volume equivale a massa per densità. La massa è 10 alla 10 grammi. Per un grammo per millilitro trovo che il volume di acqua di mare che contiene un grammo di cobalto sono 10 alla 10 millilitri ovvero anche 10 alla 7 litri ovvero 10 milioni di litri praticamente di acqua di mare ovviamente. Ora che conosco il volume di acqua di mare che contiene un grammo di cobalto posso applicare la stessa proporzione per fare questo. Un grammo di cobalto sta a 10 milioni di litri come 1,5 grammi di cobalto stanno a x milioni di litri. Quindi, visto che la x è esterna devo fare il prodotto degli interni fratto l'esterno mi viene 10 alla 7 litri per 1,5 grammi fratto un grammo. Grammi e grammi se ne vanno e mi rimane 1,5 per 10 alla 7 litri ovvero stiamo parlando di 15 milioni di litri. Quindi 1,5 grammi di cobalto sono sciolti i 15 milioni di litri di acqua di mare. Facciamo quest'altro esercizio calcolare la concentrazione del manganato di sodio in parti per milione in una soluzione avente volume 600 mililitri che ha sciolto praticamente 0,180 grammi di questa sostanza Na2, MnO4 e dobbiamo assumere che la densità della soluzione sia pari a 1 grammo per millilitro. Qui abbiamo i dati volume della soluzione massa del soluto manganato di sodio densità della soluzione. Le incognite sono quelle di calcolare la concentrazione in parti per milione conosciamo già la formula ppm equivale a massa o volume del soluto fratto massa o volume della soluzione per 10 alla sesta. Ovviamente se al numeratore mettiamo massa mettiamo massa anche al denominatore ugualmente per il volume perché essendo un valore adimensionale il soluto e la soluzione devono essere espressi nella stessa unità di misura. Quindi dobbiamo calcolare la massa della soluzione conoscendo la sua densità. Densità equivale a volume fratto massa quindi la formula inversa la massa equivale al volume fratto densità. 600 millilitri che è il volume della soluzione fratto la sua densità mi dà una massa della soluzione pari a 600 grammi. Infatti visto che il rapporto delle densità e volume equivale a 1 a 1 perché è un grammo per millilitro allora in questo caso la soluzione ha una massa equivalente al volume. andiamo avanti e applichiamo questa formula abbiamo la massa sia del soluto che della soluzione quindi utilizziamo i grammi come unità di misura abbiamo quindi la massa del soluto fratto la massa della soluzione per un milione cioè per 10 alla sesta e mi viene una concentrazione ppm di 300 parti per milione questa è la concentrazione del manganato di sodio in questa soluzione. ora parliamo di molarità che cos'è la molarità? indica le moli di soluto per unità di volume della soluzione quindi m equivale a moli soluto espressi in mol fratto volume della soluzione questa è la formula da imparare facciamo questa esercitazione calcolare la molarità di una concentrazione di acido solforico H2SO4 al 14% di massa su volume quindi abbiamo i nostri dati concentrazione la formula e la nostra incognita è la massa molare del soluto dobbiamo calcolare la massa molare dell'acido solforico H2SO4 quindi idrogeno pesa una unità atomica l'ossigeno 16 l'ozolfo 32 questi sono dati che prendiamo dalla tavola periodica degli elementi la formula è H2SO4 e il peso molecolare equivale a idrogeno per 2 ossigeno per 4 zolfo per 1 mi viene un totale di 98 grammi per mole ovvero una mole di acido solforico pesa 98 grammi adesso posso applicare questa proporzione 14 grammi sta a 100 millilitri perché sto parlando del 14% di massa su volume come X grammi stanno a 1000 millilitri visto che la X è interna devo fare il prodotto degli esterni fratto l'interno e mi viene 14 grammi fratto 100 millilitri per 1000 millilitri millilitri e millilitri se ne vanno via e rimane un'incognita di 140 grammi quindi ho scoperto che questa è la quantità di H2SO4 sciolta nella soluzione ora possiamo calcolare le sue moli infatti il numero di moli equivale alla massa fratto la massa molare quindi abbiamo che 140 fratto 98 corrispondono a 1,43 moli queste sono le moli presenti nella soluzione ora posso calcolarmi la molarità perché la molarità equivale a moli di soluto fratto volume della soluzione 1,43 fratto 1 litro perché stiamo parlando di 1 litro di soluzione possiamo dire che la molarità equivale a 1,43 moli sul litro infatti non avendo specificato un volume nel testo dobbiamo calcolare la molarità su 1 litro generico di soluzione e quindi abbiamo 1,43 moli sul litro andiamo avanti e facciamo questa testa eccitazione calcolare la molarità di una soluzione di solfato di sodio Na2SO4 ottenuta sciogliendo 20 grammi di questo sale in 600 ml di soluzione quindi abbiamo la massa del soluto la formula il volume della soluzione e poi l'incognita ovvero massa molare del soluto dobbiamo calcolare il peso molare di Na2SO4 l'ossigeno pesa 16 lo zolfo 32 il sodio 23 quindi sodio per 2 zolfo per 1 l'ossigeno per 4 mi viene una massa molare di 142 grammi per mole ovvero una mole di Na2SO4 corrisponde a 142 grammi ora posso applicare questa formula e quindi calcolare le mole del soluto massa del soluto fratto massa molare Na2SO4 e ottengo questo 20 fratto 142 mi dà un numero di moli pari a 0 141 moli ora posso calcolarmi la molarità perché conosco le mole del soluto e il volume della soluzione quindi abbiamo moli soluto 0,141 fratto moli della soluzione ovviamente questi 600 millilitri di converto in litri perché stiamo parlando di moli sul litro e quindi fratto 0,6 e mi fa che la concentrazione è di 0,235 molalità ovvero moli sul litro che cosa vuol dire che ogni volta che ho un litro di soluzione ho in automatico sciolto al suo interno 0,235 moli di soluto vediamo ancora quest'altra esercitazione calcolare la massa in grammi di acido fosforico H3O4 presente in 900 millilitri di una soluzione con concentrazione di 1,3 molare quindi abbiamo i nostri dati abbiamo il volume della soluzione la formula di soluto e la molarità quindi abbiamo stavolta già la concentrazione molare dobbiamo calcolare la massa del soluto calcoliamo intanto il peso molecolare della soluzione l'idrogeno pesa 1 l'ossigeno 16 il fosforo 31 quindi l'H3O4 corrisponde a idrogeno per 3 più ossigeno per 4 più fosforo per 1 mi dà 98 grammi per mole vuol dire che una mole di H3O4 pesa 98 grammi conoscendo la formula moli di soluto fratto volume della soluzione della molarità devo semplicemente fare la formula inversa e quindi ricavando la formula inversa le moli corrispondono a volume per molarità quindi vado ad applicare questa cosa moli equivale a 0,9 litri vi ricordo che il volume va sempre spesso in litri quindi se il testo mi dà il volume in millilitri io comunque devo scriverlo nella formula in litri quindi 900 millilitri corrispondono a 0,9 per la concentrazione molare 1,3 e ottengo questo risultato le moli sono 1,17 di H3O4 ora io devo trovare la massa perché il testo mi chiede la massa quindi scrivo questa proporzione una mole pesa 98 grammi come 1,17 moli pesano x grammi stavolta la x è esterna quindi si risolve facendo il prodotto degli interni fratto l'esterno e mi viene 98 grammi per 1,17 moli fratto una mole ma le moli se ne vanno mi rimane la quantità in grammi di H3O4 che corrisponde a 114,66 grammi questa è la quantità in grammi del mio soluto 18 nella soluzione ora parliamo invece della concentrazione di molalità che molti confondono spesso con molalità però in realtà sono due concetti diversi intanto si esprime con la lettera minuscola M e corrisponde a moli di soluto fratto massa del solvente in chilogrammi quindi è diversa dalla molarità questa è la formula c'è da dire che se il solvente è l'acqua visto che la densità dell'acqua è un millilitro su grammo mi viene che la massa del solvente corrisponde al volume del solvente quindi in realtà spesso quando utilizzo l'acqua come solvente molalità e molalità risultano uguali e questo contribuisce a confondere le cose per molte persone ma dovete ricordare che molalità e molalità sono due cose diverse infatti quando utilizzo un solvente diverso dall'acqua come ad esempio l'olio o la benzina la concentrazione molare e molale esce fuori con due valori ben diversi quindi sono due cose diverse da ricordare facciamo un esercizio si calcoli la molalità di una soluzione preparata sciogliendo 25 grammi di cloruro di sodio NaCl in 500 grammi di acqua ho i dati stavolta ho tutto quanto dobbiamo calcolare la massa molare dell'NaCl usando i valori ricavati dalla tavola periodica quindi il sodio pesa 23 il cloro 35 e 45 possiamo dire che l'NaCl pesa 58,95 grammi quindi queste qui sono i grammi di NaCl per mole possiamo ora calcolare la quantità di moli in gioco nel problema una mole pesa 58,95 grammi come x moli pesano 25 grammi quindi per trovare quante moli sono 25 grammi ovviamente la x è interna faccia e prodotto degli esterni fratto l'interno e mesce fuori 1 per 25 fratto 58,45 le moli di NaCl sono 0,43 adesso posso applicare la formula molalità equivale al numero di moli di soluto fratto la massa del solvente spessa in kg quindi ovviamente i 550 grammi diventano 0,550 kg e viene 0,43 le moli di soluto fratto 0,550 la massa del solvente la molalità di questa soluzione è di 0,78 moli al kg facciamo un altro esercizio in 800 ml di vino con densità di 0,982 grammi su millilitro vedete questa non è più acqua abbiamo un solvente diverso dall'acqua e quindi la densità non è più 1 a 1 ma è 0,98 un po' di meno dell'acqua qua dentro sono presenti 100 ml di etanolo la formula è C2H5OH che a sua volta ha una densità di 0,792 grammi su millilitro quindi questa è una soluzione monofasica perché sia il solvente che il soluto sono liquidi dobbiamo calcolare la molarità di questa soluzione cominciamo con il calcolare la massa molare dell'etanolo C2H5OH abbiamo che l'ossigeno pesa 16 l'idrogeno 1 il carbonio 12 e la formula ci dice che ci sono 6 idrogeni 5 in questa parte della molecola e 1 esterno sotto forma di gruppo idrostidile OH abbiamo un ossigeno che pesa 16 e 2 carboni che pesano 12 quindi il peso molecolare di C2H5OH corrisponde a 46 grammi per mole ovvero una mole di etanolo mi pesa 46 grammi ora devo trovare la massa la massa equivale a densità per volume quindi io sconosco la densità dell'etanolo per ogni 100 ml di etanolo quindi 100 ml di etanolo corrispondono di fatto a 79,2 grammi come vedete quando la densità è diversa da quella dell'acqua quindi non è più 1 il volume non corrisponde più alla massa in questo caso la densità è minore di 1 grammo per millilitro quindi 100 ml pesano meno di 100 grammi quindi 79,2 grammi adesso che cosa facciamo massa dissoluto fratto massa molare di C2H5OH quindi 79,2 grammi fratto 46 grammi per mole semplifichiamo i grammi e che cosa otteniamo? il numero di moli che sono 1,72 moli che sono le moli di C2H5OH presenti in questa soluzione ora calcoliamo la massa dissolvente in questo caso il vino in cui conosciamo volume e densità quindi massa equivale a 0,182 per 800 ml come vedete stavolta non ho convertito in millilitri in litri perché la densità mi è stata data in grammi fratto millilitri quindi visto che la densità mi è stata data in grammi fratto millilitri la devo moltiplicare per un volume in millilitri in modo che questi si possano semplificare e mi viene che la massa del solvente è di 785,6 grammi visto che la formula della molalità è moli dissoluto fratto massa dissolvente però stavolta è spessa in chilogrammi devo fare 1,72 moli fratto 0,7856 chilogrammi quindi ho convertito stavolta la massa trovata prima in grammi in chilogrammi e mi viene una molalità di 2,19 moli su chilogrammo ho trovato la molalità di questa soluzione concentrazione molare dell'etanolo nel vino ora facciamo l'ultima operazione di concentrazione di questa lezione la frazione molare infatti in questo caso consideriamo un soluto costituito da più componenti infatti quando nella soluzione ci sono più di un soluto si può esprimere la loro concentrazione in frazione molare considerando i singoli componenti come A, B, C eccetera eccetera quindi la frazione molare equivale a la mole di un componente della soluzione fratto la somma di tutti i componenti di quella soluzione la frazione molare X di ogni componente di una soluzione consiste nel rapporto tra le moli dei singoli componenti con le moli totali di tutti i componenti che la compongono quindi abbiamo la formula generica Na fratto N totali più NB fratto N totali e così via la somma di tutto questo mi deve dare 1 perché la frazione tra le moli totali fratto le moli totali deve dare sempre pari a 1 la frazione molare dunque è sempre un valore compreso tra 0 e 1 perché mi dà la frazione della concentrazione molare del soluto possiamo fare un esempio per capire meglio si calcola la frazione molare del saccarosio C12 H22 O11 in una soluzione ottenuta sciogliendo 350 g di saccarosio in 1500 g di acqua abbiamo i dati massa saccarosia e massa acqua e le incognite la componente del glucosio è quella di acqua quindi le frazioni molari in entrambi i componenti qui abbiamo i pesi molecolari già calcolati per esempio C12 H22 O11 pesa 342 g per moli questa è la massa molare e l'acqua invece 18 g per moli ora possiamo calcolarci le moli che abbiamo nella soluzione le moli di saccarosio corrispondono alla massa di saccarosio che ci dà l'esercizio 350 g fratto la massa molare che abbiamo calcolato che ci dà da biografia quindi otteniamo che abbiamo leggermente di più di una mole di saccarosio 1,02 moli sciolti nella soluzione nel caso dell'acqua invece abbiamo 1500 g di acqua fratto 18 g per mole cosa otteniamo? otteniamo che abbiamo 83,33 moli di acqua quindi se adesso voglio calcolarmi questo devo applicare la formula le moli del componente fratto la somma totale delle moli quindi si applica la formula qui accanto per calcolare le frazioni molari abbiamo quindi che le moli totali sono moli di acqua più moli di saccarosio quindi 1 del saccarosio più 83,33 dell'acqua abbiamo moli totali di 84,35 moli quindi cosa facciamo? moli del saccarosio fratto moli totali e moli dell'acqua fratto moli totali la soluzione è costituita da 0,012 frazione molare di saccarosio 0,988 frazione molare di acqua per fare la prova del 9 e quindi verificare che sia corretto devo vedere che la somma delle due frazioni molari corrisponda a 1 ora in questo esercizio abbiamo fatto l'esempio di una frazione molare costituita solamente da un soluto e un solvente però ci possono essere più soluti dentro il solvente e quindi posso avere frazioni molari più complesse detto questo ho finito anche questa lezione che è solamente un appendice di esercizi della lezione 9 del mio costo della chimica facile quella sulle soluzioni quindi potete trovare la lezione 9 le mie soluzioni e tutto il costo della chimica facile sul mio canale youtube e sulle pagine instagram e facebook prof. Antonio Loiacono grazie grazie a tutti